Ciao a tutti, sono Piero Cannata, regista e sceneggiatore del cortometraggio Script. Sono emozionato, vi ringrazio tutto il fin de coin, il dia se ha se corto, per il premio assegnato al mio corto, come mio horror. Che dire, vi mando un grosso abbraccio e spero di potervi conoscere tutti dal vivo magari l'anno prossimo. Un bacio!